Autonomia di pensiero per dare risposte concrete alla città sfida al Movimento 5 Stelle sulle cose da fare. Replica a chi, dopo aver sostenuto Ciampi al ballottaggio, lancia accuse sui temi del poltronismo o dell'incoerenza. Stefano Luongo, consigliere comunale del gruppo Insieme Protagonisti, non dimentica di aver ricoperto la carica di presidente del Forum Giovani e con essi si presenta in conferenza stampa per illustrare i sei punti annunciati in campagna elettorale ed ora al baglio del sindaco che lunedì porterà in aula le linee programmatiche. Casa dello studente a Borgoferrovia, città della musica, incubatore di impresa Casina del Principe sono alcuni dei temi studiati e condivisi con il Forum e riproposti. La linea politica è di alternativa a tutti, chiarisce Luongo, ed è stata condivisa con l'onorevole D'Agostino, ispiratore della lista. Siamo critici sull'operato dei 5 Stelle in questi primi due mesi, dopo il ritiro delle linee nel tentativo di arrivare a dei risultati in coerenza con il lavoro svolto, facciamo delle proposte concrete. Se saranno accettate, una volta valutate le linee nel loro complesso, prenderemo una decisione sul voto. Siamo all'opposizione, ribadisce Luongo, ma un'opposizione costruttiva. Non siamo interessati a giunta e commissioni, né tantomeno a convenienze in vista di future elezioni provinciali o regionali che siano. Vogliamo dare risposte concrete ai problemi. Diciamoci la verità, c'è un Consiglio Comunale che pensa alle provinciali, alle regionali, anche compreso il Movimento 5 Stelle, alle prossime comunali. Nessuno si vuole assumere fino in fondo la responsabilità di contribuire a migliorare la nostra città e noi sfideremo tutta l'Aula, Movimento 5 Stelle compreso, sul tema di proposte, di idee e quindi sfideremo il cambiamento con la nostra idea di cambiamento. Questo significa che voterete le linee programmatiche o ancora non avete deciso? Le linee programmatiche le dovrà scrivere il sindaco Ciampia, lui l'onere di fare sintesi tra le varie proposte. Il mio compito era quello di rispondere responsabilmente al suo appello, dopodiché lui dovrà presentare in Aula un programma, il gruppo che mi sostiene lo valuterà insieme a me e di conseguenza si esprimerà se negativamente oppure non ostacolando la nascita, l'avvio di questa amministrazione. Puntualizzo perché vogliamo sfidare su proposte, su idee, su progetti, l'attuale amministrazione e tutti i consiglieri comunali per capire chi realmente vuole governare e chi è capace di farlo.